Ciao, sono Terry Giacomello, anche io scelgo Parmigiano Reggiano e sono veramente onorato di partecipare alla serata di sabato 11 novembre al Parmigiano Reggiano Night. Visita il sito night.parmigianoreggiano.com e scopri quali sono i 400 ristoranti aderenti all'iniziativa di sabato 11 novembre. Per tutti i partecipanti ci sarà un utile omaggio e un ricettario per divertirsi in cucina con il vostro Parmigiano Reggiano.